Eccoci qua baldigiovani, dopo un giorno di latitanza mi ripresento nuovamente a voi con i capelli più corti, il che è del tutto rilevante e frega veramente la mazza per parlare di Inter Verona, sapete domani si gioca oggi come al solito giornata dedicata alla conferenza stampa e torna a parlare Antonio Conte un Antonio Conte infastidito, posso dirlo? Seccato? Posso ribadirlo? Lo dico, lo dico Ne discutiamo insieme, come sempre ormai siamo abituati a fare, quindi vi invito sempre a dire la vostra sotto nei commenti prima io voglio invitarvi a scaricare l'app Uman Futebol, dove tra l'altro potete anche trovare giustamente una riproduzione testuale della stessa conferenza stampa o di qualsiasi notizia inerente al mondo del calcio che più vi aggrada, il link è in descrizione, l'app ormai lo sapete, ve lo dice anche il generale è gratuita, quindi di che stiamo a parlare, di cosa stiamo a parlare allora, tralascio le classiche e abitudinali domande, diritto, che partita d'aspetti, che partita deve fare l'Inter, il lavoro di Juric ormai sono quanti anni ragazzi, sono 3-4 che parliamo di calcio? Pare proprio di sì e anche da prima io non mi sono mai 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 perso una conferenza stampa dell'Inter, poi seguo anche le altre, non pensate seguo anche le altre, ma dell'Inter non ho perso una conferenza che sono 3-4-5-6-7-8 anni, non mi ricordo quando ma veramente, passano, passano, volano gli anni e ricordo sempre le stesse domande, il più delle volte molte domande servono appunto per riempire il vuoto però oggi, al di là di queste domande banali, ho trovato anche qualcosa di molto, molto interessante che di certo ha fatto anche in qualche modo storcire il naso a Mr. Conte e sono le domande sul futuro, il che ci può stare, ma una domanda in particolare, una domanda in particolare stiamo qui a discuterne bevo? bevo perché bevo poco, bevo perché bevo poco, quindi bevo anche qui, bevo poco, bevete anche voi questo è un messaggio del tutto gratuito, non è che sto a sponsorizzare l'acqua alete o cosa ho ruminato l'acqua alete? no, no, l'acqua a San Benedetto, visto che io sto al sud no, bevete, è importante, vabbè, parentesi che è del tutto inopportuna, a parte le domande sul futuro, sì, molto molto scocciato quando gli chiedono ma cosa faresti nel caso in cui l'Inter poi non andrebbe sul mercato in qualche modo, ci sono troppi sei in queste domande che stiamo a parlare, non si parla sui sei sui ma ok oppure ancora più stizzito quando gli dicono quanta distanza c'è dalle attuali semifinaliste di Champions anche perché giustamente il paragone è sempre quello, no? all'Inter del futuro in Champions in Europa quanta distanza c'è tra le prime della classe, è lì che vogliono andare a parlare i giornalisti e lui ancora ribadisce quando finirà tutto parleremo queste sono domande troppo articolate, troppo futuristiche e via discorrendo io la sto facendo breve perché credo che questo sia comunque secondario ma è andata appunto così ed è giusto, ed è giusto che Antonio Canti in questo momento si concentri sul presente è vero, facciamo un discorso adesso più generale, ci sono quelli che per scaramanzia non parlano di scudette poi ci sono quelli che in questo momento la considerano cosa fatta, poi ci sono io che sto zitto meglio stare proprio zitto, se stai zitto fai meno danni ma questo a parte l'allenatore è giusto che in questo momento non si metta a parlare, sbanderare il futuro di questo, di quello, di quell'altro e di quell'altro ancora è giusto, giusto parlare del presente, no? rimanere la squadra concentrata perché comunque l'obiettivo va prima raggiunto una volta raggiunto l'obiettivo poi si può discutere di quello che ci pare, di quello che ci piace la panna, la cioccolata, il cream caramel o via discorrendo in questo momento invece prepariamola la torta o il dessert non lo so perché faccio questi esempi banana, non lo so, concedetemi ogni tanto ci sta pure ma prima prepariamo, poi una volta preparati iniziamo a vedere no, in realtà è il contrario perché tu prima preparare, prima devi sapere quello che ti piace e quindi preparare in base, vabbè l'esempio non c'entra una mazza, adesso l'ho capito perché non c'entra, detto questo, detto questo e torniamo seri adesso perché qua credo ci sia da discutere voglio sapere anche la vostra in merito e credo che questo sia importante una domanda che gli è stata posta, guardate un po' dal Corriere dello Sport il Corriere dello Sport è sempre quello che non ci va mai leggerino però è una domanda a cui in qualche modo non è la domanda ma è la risposta che fa riflettere anzi la non risposta di Antonio Conte perché gli chiedono anche un po' del rapporto di Zank di quanto Zank in questi mesi abbia contribuito, sia stato di sostegno al lavoro quotidiano alla squadra, al club o comunque alla squadra e quindi in questi mesi Zank è stato in qualche maniera di sostegno al lavoro quotidiano bene, qui non parliamo di futuro ecco e quindi te ne puoi uscire te ne puoi uscire tu Antonio per dirla, te ne puoi uscire anche con la classica risposta banale te ne esci con la classica risposta banale in cui magari puoi dire sì lo è stato, è stato fondamentale come lo sono i giocatori come lo è il magazziniere te ne puoi uscire come fanno tutti, la classica risposta banale fumo negli occhi e via e invece questo non lo fa non fa questo anzi risponde anche in maniera molto molto stizzita e infastidita non mi interessa entrare sull'argomento prima della partita non mi interessa entrare sull'argomento prima della partita io non credo che sia una questione di prima, dopo o nel mentre della gara in sé io credo che la domanda abbia in qualche modo punto lì dove o dove fa male si dice così si dice così e quindi dice educatamente non ho piacere a rispondere giusto concentrarsi sulla partita ci stiamo giocando il lavoro di due anni tutto vero però ribadisco ribadisco se tutto ciò ti frega meno di zero tu rispondi con la classica con la classica con la classica affermazione pre-confezionata quella da dare in pasto alla stampa segno che forse qualche frizione chiamiamola così qualcosa del genere alla base di tutto ciò c'è di questo vedremo vedremo ad obiettivo raggiunto vediamo a campionato terminato io ho una mezza una mezza idea una mezza infarinatura di tutto ciò ce l'ho ma al momento al momento preferisco tacere vedremo vedremo come si svilupperanno si svilupperanno le cose detto questo fatemi sapere la vostra Inter Inter Verona Inter Verona come ci arrivano l'Inter praticamente al completo sapete gli indisponibili come al solito Collero Vidal ma ormai praticamente noi ci siamo addirittura dimenticati di questi due due giocatori quindi titolarissimo squadra ultratitolare Andanovic Skriniar Devrai Bastoni Achimi Barella Brozovic Eriksen Perisic Lukaku Lautaro Martinez ormai gli 11 titolari li conosciamo a memoria squadra che funziona squadra che va bene e lo ripeto lo ripeto anche adesso e soprattutto adesso dopo i due pareggi a differenza di tanti altri che si sono trovati imbufalliti io sono contentissimo anche degli ultimi due pareggi perché l'Inter poi alla fine la prestazione l'ha fatta non ho paura perché vedo una squadra matura una squadra solida e quindi sto tranquillo dalla mia al momento ovviamente detto detto questo potrebbe esserci tre ballottaggi Eriksen Sensi parte favorito Eriksen Perisic Young parte favorito Perisic Lautaro Sanchez parte favorito Lautaro ovviamente vediamo dall'altra parte per concludere il Verona 3-4-2-1 in Porta Silvestri in difesa a Davidovets e Ceccherini di Marco a centrocampo Faraoni Tameze Illic e Lazovic e poi i due trequartisti dietro la lasagna sono Baracca e Zaccagna tra l'altro a me Barac piace da morire tutti parlano di Zaccagna ma a me piace tantissimo Barac chi è indisponibile indisponibile Benassi Calisic Veloso e Vieira squalificato Sturaro il Verona non viene da 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 un momento facile diciamo per quanto riguarda gli ultimi impegni vediamo se l'Inter se l'Inter porta a casa il bottino pieno che è quello che ci che ci auguriamo valvi giovani fatemi sapere fatemi sapere cosa ne pensate voi fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate laccate se vi va iscrivetevi al canale un grande abbraccio da Neschio aspetemi sapere aspetemi sapere Grazie a tutti.